Ho vissuto anch'io la vicenda Covid dentro casa, sono stato in isolamento fiduciario, ho avuto due tamponi negativi, purtroppo ho avuto mia figlia con il Covid contagiata, con sintomi lievi, influenzali, in via di guarigione, quindi tutto è bene quel che finisce bene, però io continuo a dire a tutti i cittadini state attenti perché il virus può nascondersi dovunque e quindi mascherine, pulizia e distanziamento. Pescara è una città che ha grande capacità attrattiva, in questo periodo purtroppo stiamo vivendo un'altra realtà, dobbiamo adattarci, Pescara è una città che ha grandi capacità di adattamento, grande forza di reazione, certo è che gli aiuti, i ristori sono necessari e soprattutto è necessario che arrivino subito perché c'è una filiera che oggi sta soffrendo, non c'è soltanto il commerciante finale ma c'è tutta la filiera di attività che sono collegate al commercio, ai servizi che oggi si trova in grande difficoltà e per questo occorrono ristori immediati da parte del Governo, da parte della Regione per quanto possibile. Il Comune è intervenuto dove poteva ad aprile garantendo la possibilità a tutte le attività di potersi espandere all'esterno. Mi auguro che si torni presto in zona gialla in modo che molte attività potranno riprendere sempre con attenzione e con gradualità. Noi abbiamo pensato a questa piattaforma commerciale per mettere a disposizione di tutti i commercianti di Pescara questo strumento per vendere online, tra qualche giorno partiranno aiuti per la popolazione e per i beni di prima necessità perché sappiamo che la città ha bisogno, ha bisogno di risorse, di beni di prima necessità partiremo nuovamente con i buoni spesa così da permettere ai cittadini, ai meno abbienti, a coloro che si trovano in difficoltà a quelli che hanno un disagio sociale di poter passare un Natale con disponibilità economiche per i beni di prima necessità come abbiamo fatto a Pasqua. È stata una grande operazione quella la ripeteremo a Natale in modo da garantire una tranquillità anche per coloro che sono in difficoltà e oggi ce ne sono molte in difficoltà.